Il lavoro del pasticcere si è fatto con intelligenza e qualche cosa di particolare perché attraverso i dolci non solo diamo il piacere al corpo ma anche all'anima perché consacrano i pasti sacri e profani e alla fine ci sono degli ottimi ricordi che ci portano molto lontano. La vita senza ricordi vuol dire che non è stata vissuta. Sabato 27 luglio l'auditorium a San Barnaba a Castalimenti ha consegnato il cappello e l'attestato a 30 tra ragazzi e ragazze che hanno preso parte al corso di alta formazione in pasticceria del 2018. Un lungo percorso fatto di 4 mesi di corso presso la sede di Castalimenti, 4 mesi di tirocinio in varie pasticcerie convenzionate e 3 giornate di esami con la prova teorica, pratica e di degustazione. Avere un feedback da parte dei partecipanti che si sono trovati bene, che hanno svolto un percorso che ovviamente secondo il nostro parere e secondo il parere anche degli esperti che comunque sono coloro che ospitano i nostri borsisti e ostegisti presso di loro, alla fine questo ci aiuta a continuare, che tendenzialmente è quello che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi stessi, ovvero il piacere di fare e attraverso la gratificazione di quello che stai facendo, quindi sapendo che stai facendo le cose fatte bene, ti accorgi di fare le cose fatte bene, ti accorgi del risultato positivo che gli altri ti danno, questo ti aiuta naturalmente ad andare avanti e ad appassionarti alla professione, al lavoro. Tanta la soddisfazione dei partecipanti che hanno potuto avere a che fare con dei professionisti del mestiere e mettersi alla prova. Ho frequentato il corso di alta formazione di Castalimenti, oggi ho concluso le tre giornate di esame e niente, è andato bene, adesso c'è la cerimonia di premiazione, è stato un percorso molto bello e interessante e sicuramente trarrò tesori di questa bellissima esperienza. Ecco, a proposito di esperienza, cosa ti ha lasciato in particolare questo corso? Sicuramente ha incrementato la mia passione per questo mestiere, a livello teorico e anche pratico mi ha veramente fatto crescere in maniera importante e dopodiché ho conosciuto tante bellissime persone, professionisti veramente dell'eccellenza che c'è oggi in Italia, con le quali mi sono confrontato e ho potuto imparare veramente tutte le tecniche, i segreti e sono sempre stati gentilissimi, hanno soddisfatto ogni nostra esigenza e curiosità. Ma guarda, è stata un'esperienza incredibile da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista professionale. Si imparano un sacco di cose, sia dal primo giorno in cast fino all'ultimo, perché fino alla giornata di oggi veramente è stato un continuo prendere nozioni e veramente è stato fantastico, un percorso veramente incredibile a mio parere. Ecco, i professionisti con i quali hai collaborato, con i quali hai seguito le lezioni, cosa ti hanno lasciato, cosa ti hanno fatto capire di questo mondo? Ma i professionisti, ecco, è la parola giusta, perché sia dal punto di vista personale, ma soprattutto professionale, perché alla fine siamo qua per questo, ti lasciano tutto quello che possono lasciarti in quattro mesi, che sono relativamente pochi. Tutte le nozioni base della pasticceria italiana e non solo, dalla pasticceria tradizionale fino alla pasticceria moderna. Grazie. 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 Grazie.